Possiamo sintetizzare come senso di responsabilità questa rinuncia? Io la sintetizzo ancora di più in senso di responsabilità e senso di attenzione allo Stato. Ha dimostrato come altre volte il Presidente Berlusconi di essere uno dei pochi statisti in circolazione. I statisti sono quelli che antepondono le ragioni dello Stato alle ragioni personali e alle ragioni del proprio partito. Questo è quello che scriverà la storia di questo periodo che stiamo vivendo. Soltanto quelli che vogliono essere ciechi non se ne accorgono da questo punto di vista. E conorevole adesso verrà fatta una proposta così come ha dichiarato Licia Arronzulli che è senatrice di Forza Italia. Una proposta condivisa col centro-destra proprio in grado di avere il massimo consenso possibile. Adesso è ovvio che si lavora su questo. Io credo, nel rispetto anche di ciò che il Presidente Berlusconi ha scritto in quella nota che è stata trasmessa ieri, che anche questa, permettetemi guardandola con gli occhi del domani, non con quel di oggi, a parterrà alla storia di questa Repubblica. Grazie a tutti.